e ciao a tutti ragazzi del jtf clan io sono jtf retentive e quello che vi porto oggi qua sul canale del clan è un nuovo video raga oggi siamo qua con un gameplay fatto dal nostro riot si tratta di un nuclearizzato veramente molto veloce fatto con il faro che è un'arma un pochino insolita allora non so esattamente la durata però penso sia sotto i 3 minuti quindi comunque un gameplay abbastanza carino da vedere passate al nostro riot qua sotto in descrizione questo gameplay non l'avevamo mai caricato è un po' vecchiotto però comunque ve lo portiamo lo stesso niente raga oggi ho un attimino un argomento di cui parlarvi anzi più che un argomento volevo un attimino farvi un paio di domande allora in primo luogo volevo parlare delle streaming volevo chiedervi se nelle streaming visto che abbiamo già fatto un sondaggio durante le streaming però ovviamente durante le streaming non c'è tutta la nostra fetta di pubblico che abbiamo comunque normalmente nei video perché comunque si le streaming sono abbastanza viste anzi a volte hanno anche più visualizzazioni dei video stessi però purtroppo sono comunque sempre più o meno 100 spettatori giù di quella cifra più o meno quindi ovviamente non è tutta la nostra fetta di pubblico vi lascio in sopra in alto a destra nella i spero di riuscirvela a fare perché ragazzi con i tempi sono veramente ristrettissimo oppure comunque qua sotto in descrizione vi chiedo di spolliciare il commento magari li commento io vedo un attimino come fare perché sono veramente di fretta oggi per fare questo video perché ho avuto dei problemi vari e quindi sono un attimino incasinato volevo chiedervi se nelle streaming preferireste vedere Call of Duty, Black Ops 3, Infinite Warfare, Black Ops 2 scriveteci che cosa volete vedere raga per Black Ops 2 e tutte le varie cose da PC ci sono un attimino dei problemi per Dino cioè in questo momento non è in grado di streamarle perché ha dei problemi con il PC ovviamente non gli supporta purtroppo la streaming e il gioco contemporaneamente quindi diciamo dobbiamo un attimino vedere come fare per quel modo comunque nel caso comunque fateci sapere qua sotto se preferireste vedere Call of Duty, Black Ops 2 anzi scrivetecelo proprio voi facciamo una cosa se riesco vi metto il sondaggio comunque scrivetecelo qua sotto se preferireste vedere Black Ops 3, Black Ops 2, i VU eccetera eccetera nelle streaming fatecelo un attimino sapere e in più volevo un attimo chiedervi se vorreste che tornassimo multicode qua vorrei che tutta la gente che vede questo video che comunque è iscritta da tempo ci faccia sapere se gradierebbe un ritorno su Black Ops 2 perché raga io onestamente la 3 l'ho venduta però si trova a molto poco volendo potrei riuscire a prendermela eccetera eccetera riuscire comunque a giocare anche su Black Ops 2 e magari suggerirci anche dei format da portare su quel gioco perché comunque è un gioco vecchio e secondo me caricare solo gameplay e commentary che è il format classico del clan annoia dopo un po' anche perché sto rivalutando veramente quel format e sto pensandoci un attimino se continuare in quel modo oppure cambiare qualcosina niente raga qui da retentive è tutto vi chiedo di lasciare un bel like fateci sapere qua sotto la vostra nei commenti che ci farebbe veramente tanto tanto piacere passate al nostro Riot qua sotto in descrizione niente raga qui da retentive è tutto bella non ti piacciono i GTF non ti ammazzati non ti ammazzati non ti ammazzati quando arrivo devi farmi passare non ti ammazzati